Ciao ragazzi, oggi vi mostro dei metodi per salire di livello sul pass battaglia di Fortnite quindi vi invito a guardare il video fino alla fine per non perdervi nemmeno uno dei tipo 6 metodi che ho fatto in questo video vi ricordo di iscrivervi al canale con la campanellina e di lasciare un bel like a questo video e se volete potete anche commentare cominciamo con il video praticamente per chi non lo sa in questa nuova stagione le missioni hanno ben 5 stadi da completare però sono missioni praticamente nascoste perché non è che c'è una babacheca diciamo delle missioni ce n'è una degli incarichi che vedrete a fine video quindi è un pochettino più difficile sapere quale missioni dovete fare ma grazie a questo video salirete veramente facilmente di pass battaglia potete andare nella modalità rissa squadre su Fortnite e recarvi al punto che vi ho fatto vedere nella mappa che è tipo il punto del market pieno di mele e voi direte a cosa mi servono tutte queste mele perché c'è una missione che vi dirà di raccogliere tipo degli oggetti e di mangiare appunto degli oggetti presi da terra quindi è una missione davvero facilissima da fare e in più se andate in modalità Team Rumble ovvero rissa squadre la farete in veramente pochissimo tempo come vedete per terra si trovano davvero un sacco di mele e appena raccoglierete un oggetto vi daranno anche addirittura 25 dxp quindi farete un sacco di dxp solamente praticamente per raccogliere un oggetto che è incredibile questa cosa dopo appunto aver raccogliato basta farvi una scala appunto per prendere un po' di danno e appunto guadagnerete della vita e completate la missione che è veramente facile successivamente ragazzi per il secondo metodo dovete andare nella modalità chiamata Party Reale io non so se qua l'hanno fatto apposta perché ragazzi secondo me qui hanno sbagliato tutto perché in questa modalità non potete essere praticamente uccisi in nessun modo praticamente almeno da quello che so e potete completare varie delle missioni che appunto vi farò vedere veramente facilmente senza mai morire in pochissimo tempo per la prima missione ragazzi vi basterà andare in un fiume che è veramente facilissimo trovare e vi basterà praticamente percorrere le distanze a nuoto infatti come potete vedere in alto a sinistra la distanza percorsa a nuoto la prossima missione sarà quella della distanza trascorsa planando vi basterà andare in uno di questi rift che vi ho fatto vedere anche nella mappa e non importa di fare la missione che c'è in alto a destra praticamente vi basterà solamente planare in giro e completare anche questa missione davvero molto molto facile rispetto alle altre per un'altra missione vi basterà andare a uno dei porti dato che ce ne sono due porte appunto e praticamente vi basterà andare a prendere una delle canne da pesca che trovate praticamente c'è una vending machine che vi da una canna da pesca gratis e vi basterà appunto andare a pescare pesci e completare anche questa missione che è davvero facilissima dato che potete fare ben due missioni una che è quella di pescare pesci e una è quella in cui dovete pescare dentro i cerchi dei pesci diciamo quindi è veramente veramente facile anche questa missione un'altra missione davvero facilissima da fare che penso abbiate già completato praticamente tutti se giocate a un minimo a fortnite è quella della distanza trascorsa a piedi che è davvero facile quella non vi dico neanche come si fa perché vi basterà appunto camminare in giro come cavolo vi pare mentre un'altra missione sarà quella di trascorrere una distanza sul motoscafo che trovate vicinissimo alla vending machine delle canne da pesca sempre nella stessa struttura e vi basterà appunto prendere il motoscafo per andare praticamente in giro è fantastica perché lo completerete subito praticamente e vi consiglio magari di andare in mare perché io ho provato ad andare nei fiumi e non è finita tanto bene per un'altra missione ragazzi vi basterà appunto andare a rissa squadre come quella delle mele praticamente e dovrete andare a scogliare scoscese vi basterà cercare praticamente nei barili quelle piane di canne da pesca e un arpione io adesso nella clip che vedrete non l'ho trovata ma è veramente facile vi basta andare a cercare appunto l'arpione o la fiocina chiamatela come volete poi vi basterà andare nel mare e pescare appunto nei pesci quindi facilissimo per un'altra missione vi basterà andare in questa specie di piramide legno che trovate tra sabbie sudate e siepi da grifoglio praticamente troverete questa tizia che vi chiederà se appunto volete combattere con lei però prima di combattere con lei vi consiglio di andare a cercare delle armi che trovate benissimo nelle case che sono davvero vicine successivamente dovete parlare con lei e sfidarla appunto sbalzare indietro basta che la uccidete tipo con un fucile d'assalto vi mettete dietro una collina per fare in modo che non vi veda gli sparate e vi dropperà un'arma che è il nuovo fucile a pompa tipo del fuoco successivamente vi basterà praticamente dare fuoco a delle strutture in legno che fanno bene anche degli alberi e vi basterà praticamente andare a prendere fuoco vicino appunto a quella struttura in legno e non so perché le conta come se voi abbiate dato fuoco a un nemico questa missione quindi è incredibile perché fate un sacco di esperienza anche in questo modo come vi avevo detto a inizio video praticamente c'è una bacheca degli incarichi che troverete direttamente nella lobby quando state per entrare in partita e lì troverete un sacco di missioni da completare che sono davvero facilissime tipo per esempio che ne so completare le taglie, pescare pesci quindi anche da lì potrete vedere un sacco di missioni che sono davvero molto facili vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale per non perdere i video del genere lasciare un bel like, commentare sotto questo video e da gioco è tutto ragazzi, ciao 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 ciao